benvenuti all'angolo di pagine d'autore una rubrica per entrare nel mondo dei libri la fuga di anna di mattia corrente 1 guardami anna ho messo i jeans sbiaditi che tanto odiavi quante volte mi hai rattoppato le tasche ricucito la cerniera i passanti della cinta mentre li abbottonavo ti ho immaginata in cucina braccia concerte schiarirti la voce fingendo un colpo di tosse ma quanto era bello quel tuo tossire sottile sempre puntuale la tua voce che mi chiamava per nome e mi sorprendeva di spalle in soggiorno giuro che li faccio sparire quanto è vero il dio dicevi e io li toglievo senza nemmeno provare a controbattere mi piaceva così tanto sentirti contrariata sempre alla stessa maniera ogni volta prima di andare a messa li ho tolti anche stavolta vanno bene i pantaloni verdi di velluto ho stirato la camicia bianca l'ho lasciata raffreddare sull'asse e sono uscito in terrazzo con la bacinella verde il rasoio la schiuma ho fatto la barba in piedi davanti allo specchio appeso al muro poi ho aspettato anna ma che ci faccio qui in piedi a sperare che da un momento all'altro mi vieni a chiamare che è già tardi dobbiamo andare via che poi il prete non ti confessa che vergogna far finta che ci sei ancora eccomi il viso pulito la camicia stirata i pantaloni di velluto e il borsalino dritto sulla testa sto per uscire ma torno indietro sono due giorni che non gli do da mangiare ho giurato di farlo morire nella sua boccia ma è l'ultima cosa che abbiamo comprato insieme un pesce rosso una boccia un barattolo di cibo secco per pesci rossi ho dimenticato il suo nome e adesso non posso no che non posso ricordare il nome di pesce rosso e ti giuro che ci ho provato resto ebete a fissarlo mentre gira nella sua piccola casa rotonda e niente proprio non me lo ricordo ma dove sei anna da quando sei scomparsa iniziò a dimenticare in ogni ricordo di noi ci sono soltanto io tu non ci sei più parto guardami anna un vecchio con una valigia che parte con la speranza di ritrovarti mattia corrente è nato nel 1987 a messina e vive in sicilia la fuga di Anna edito da sellerio è il suo primo romanzo con la fuga di Anna mattia corrente ha vinto il premio della critica dell'ottava edizione di leggo quindi sono mattia corrente scrive un romanzo che è un grande viaggio nell'amore la fuga di Anna è una storia che racconta di scelte di speranze ma anche di grandi di profonde di delusioni Anna è scomparso ormai da un anno è uscita di casa e non ha fatto più ritorno severino il marito decide di cercarla lascia così stromboli un luogo in cui la coppia ha vissuto per tantissimo tempo e va alla ricerca della della moglie una forza e una tenacia direi rara contraddistinguono severino nonostante il peso del dei suoi anni severino è un uomo davvero buono l'autore racconta in modo meraviglioso tutto ciò che ha segnato la vita di queste due persone i luoghi i personaggi gli oggetti riesce a catturare l'attenzione del lettore attraverso una scrittura armonica fatta di tanti sguardi e di tanti personaggi tanti piani narrativi ma un'unica grande armonia nella ricerca spasmodica di severino riemergono poi la memoria e le verità mai affrontate questo libro mi ha regalato tantissime emozioni e per questo che voglio condividerlo con con voi un libro sicuramente da da rileggere e allora buona lettura con la fuga di anna di mattia corrente se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it o scrivetemi alla mail o ancora mi trovate sui canali social instagram e facebook buona lettura www.paginedautore.it o.sorica.it 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 o.sorica.it